Buongiorno a tutti, questa pillola fa parte dell'Illuminated Dante Project per Dante D 2020, raccontare la commedia attraverso le immagini. Sono Giacomo Montanari, un storico dell'arte, collaboro con l'Università di Genova e sono il curatore scientifico delle manifestazioni di valorizzazione del patrimonio UNESCO di Genova, cioè i Palazzi dei Rolli e il sistema delle strade nuove. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di un incontro tra due personaggi davvero significativi, e cioè Sandro Botticelli nelle vesti dell'illustratore e Dante ovviamente in quelle del poeta, e della committenza importantissima di Lorenzo di Pierfrancesco dei Medici, cioè il cugino giovane di Lorenzo il Magnifico, che chiese a Sandro non soltanto la primavera, la pallade col centauro, cioè le opere più straordinarie della fase più felice della pittura di Botticelli tra gli anni 70 e gli anni 90 del 400, ma anche un grandioso progetto di illustrazione continua di tutti i canti della commedia dantesca, che in quegli anni l'intellettuale di corte, cioè Cristoforo Landino, stava commentando proprio per Lorenzo di Pierfrancesco. Allora io ho selezionato due disegni che fanno parte dei 92 che sono oggi superstiti, conservati in Germania e in piccolissima parte la Biblioteca Apostolica Vaticana di Roma, che hanno più a che fare con quella che è appunto la dimensione artistica. Uno molto famoso, il Canto Decimo del Purgatorio, in cui appunto Dante e Virgillo si trovano a incontrare questi bassorilevi marmorei che narrano gli esempi, diciamo, i buoni esempi di umiltà. E qui vedete proprio la modalità narrativa di Sandro, in cui le diverse scene coesistono in uno spazio unitario e in cui questa linea molto movimentata racconta, narra la storia. Questa scena meravigliosa in cui si affollano figure di uomini in battaglia, cavalieri, eccetera, eccetera, fa parte proprio di una modalità narrativa di Botticelli che noi ritroviamo ad esempio in dipinti come questo, questa incompiuta ad orazione dei magi che si trova nei depositi degli uffizi dove ritornano proprio queste modalità narrative di Botticelli stesso. Il secondo episodio, forse ancora più noto, è il canto undecimo del Purgatorio, e cioè l'incontro con Oderisi da Gubbio. Perché così significativo? Perché nella dimensione della superbia punita, anche relativamente a quella che è la vanagloria dell'artista, in cui Dante ovviamente si inserisce in prima persona con il parallelo che Oderisi fa a livello letterario, ebbene rientra anche la dimensione delle arti figurative. Oderisi è un miniatore e alcuni storici dell'arte hanno letto nella figura di Oderisi da Gubbio che si volge a parlare con Dante nella scena centrale di questo bel disegno che vedete ha proprio un andamento da striscia fumettistica, con queste scene che quasi simulano il fotogramma. Potremmo leggerle come dei fotogrammi di una pellicola che si muove in senso continuo e che ci mostra il movimento dei personaggi, ecco in questo volto hanno visto proprio l'autoritratto di Sandro, secondo il modello di quello della famosa Annunciazione Medici che abbiamo visto in apertura. Ma che cosa c'è di altro, di significativo? Che noi questi disegni li abbiamo scoperti tardi, sono citati ad esempio nell'anonimo Magliabecchiano come un maraviglioso progetto, ma in buona sostanza vengono poi identificati alla fine dell'Ottocento all'interno del codice Hamilton, ma probabilmente avevano avuto una fortuna già contemporanea. È di pochi anni successiva, infatti, nella cappella di Sambrizia e Orvieto per mano di Luca Signorelli, questa raffigurazione dei due medesimi momenti con un linguaggio, seppur più sintetico e ovviamente dedicato alla fresco, quindi meno intimo, meno narrativo di quello dell'accompagnamento del testo letterario, ecco vedete che le tangenze sono davvero molte, quindi Dante e Virgilio davanti ai grandi bassorilievi e poi l'incontro con Oderisi gravato dal masso. Una testimonianza, se vogliamo usare un termine improprio, del primo fumetto della storia che mette insieme due tra i più importanti artisti della Firenze tra il II e il Cinquecento e che significativamente mette in scena questa modalità di racconto attraverso le immagini che è sempre un'istanza centrale all'interno della storia dell'arte. Una modalità che Botticelli importa con questa linearità così insistita quasi sicuramente dai modelli della Grecia classica, come i grandi freggi continui dei tempi ionici dell'Atene classica che erano testimoniati proprio in quegli anni in Italia dai pioneristici viaggi di un uomo straordinario come Cirio a Codancora.